In questa puntata delle pillole della finanza in soldoni vorrei parlare di un tipo particolare di obbligazioni generalmente riservate alla clientela retail che presenta una struttura del pagamento delle cedole che non è facilmente comprensibile e soprattutto per quanto riguarda i risvolti finanziari per gli risparmiatori comuni. Diversi investitori in particolare molte di queste emissioni sono realizzate da Unicredit c'è una recente commentata tra gli altri da Costantino Forgione che ne evidenziava gli elementi di ridotta convenienza per gli risparmiatori e qui il messaggio è che essenzialmente queste obbligazioni prevedono un pagamento delle cedole che non è semestrale come di norma per questa tipologia di titoli bensì è posticipato al termine. Ora in questo video vi faccio presente e facciamo anche qualche conticino come questo semplice fatto che potrebbe magari in realtà passare inosservato o senza troppa attenzione agli risparmiatori ha delle conseguenze finanziarie. Partiamo da questo esempio che ci diceva Forgione su LinkedIn. Sono delle obbligazioni Unicredit quotate sia in euro che in dollaro poi trovate i riferimenti nella newsletter e anche nel link al sito. Sostanzialmente c'è un rendimento del 7 al 20% dal primo al terzo anno e del 3% dal quarto al tredicesimo con la caratteristica che però i rendimenti sono pagati alla scadenza di tutto il titolo quindi non normalmente non ogni semestre come di norma e soprattutto esiste la possibilità per la banca emittente di rimborsare il titolo in via anticipata. Io ho fatto qualche conteggio che poi diciamo vi riporto alle note del sito ma essenzialmente se su Excel vi riportate un po' la struttura dei pagamenti notiamo che un titolo con queste caratteristiche che avesse pagato le cedole in maniera semestrale quindi un'obbligazione normale avrebbe un rendimento del 4,12% che è un po' una media ponderata se volete tra il 7 dei primi tre anni e il 3 degli anni successivi. In realtà il solo fatto di pagare gli interessi alla fine e non semestralmente riduce il rendimento effettivo di un punto percentuale portandolo a circa il 3,25% quindi poco meno di un punto percentuale e quindi per il solo effetto quindi i rendimenti richiamati sono detti il 7, il 3% però il rendimento effettivo in realtà per il solo fatto che le cedole vengono pagate a scadenza si riduce in maniera significativa. Quindi la struttura di questo titolo con il semplice fatto di pagare la scadenza porta un rendimento inferiore ai risparmiatori e quindi questo è abbastanza importante e ci fa capire quanto sia utile e fondamentale avere una comprensione dei meccanismi minimi della finanza. E' stato su questo titolo per dire diversi commentatori hanno evidenziato che di fatto questa obbligazione è chiaramente ben costruita dal lato dell'emittente perché riserva appunto alla banca emittente tutti i vantaggi nel senso che offre alle famiglie un tasso inferiore a quello a rendimento medio riconosciuto dalle obbligazioni di unicredit di circa 20 punti base in realtà non esistono obbligazioni della stessa durata ma quella più vicina un rendimento inferiore di 70 punti base rispetto ai titoli di Stato nei confronti ai BTP nei confronti dei quali chiaramente c'è anche il beneficio ricordiamo c'è anche il beneficio fiscale ma ai quali per i quali dobbiamo anche tenere presente che essenzialmente i titoli di Stato hanno un mercato più liquido e non hanno il rendimento call cioè quindi la possibilità per la banca di riprendersi. Allora ultima ma non per importanza l'indicazione che Unicredit riferente a questo titolo applica una commissione all'emissione del 2,21% quindi questa ne ho parlato in una pila video precedente è la peggiore delle commissioni che dovete sempre evitare e quindi sostanzialmente questo titolo facendo pochi conti in tasca è assolutamente meno conveniente in assoluto quindi non c'è un discorso cioè noi parliamo sempre in termini relativi no? e quindi si dice alcuni titoli convengono a alcune persone altri titoli convengono a altre persone questo qui è dominato totalmente dalle alternative disponibili sul mercato è molto più conveniente prendere un BTP sul mercato secondario meno rischioso strumento più liquido eppure vediamo che gli istituti di credito sostanzialmente questi titoli evidentemente ce ne sono varie missioni quindi riuscendo a vendere ai risparmiatori qualcosa di più conveniente per la banca ma di non conveniente per gli risparmiatori e quindi qualcosa che è diciamo dominato dal punto di vista della conferenza da alternative disponibili quindi è qualcosa che è assolutamente qualcosa che un risparmiatore razionale non dovrebbe acquistare i risparmiatori italiani i clienti di Unicredit non sono evidentemente investitori nazionali perché questi titoli vengono emessi qualcuno li vende forse per ignoranza dell'educazione finanziaria forse perché per pigrizia o quant'altro però questo ci lancia anche qualche messaggio su quella che è stata la retail investment package della commissione europea cioè ci sono delle normative per cui è diventato evidente che le banche molti intermediari finanziari in qualche modo rifilano ai propri clienti dei prodotti che non sono esattamente convenienti per loro e questa cosa diventerà più difficile ci saranno gli obbligo di trasparenza ad esempio un obbligo di trasparenza banale che forse vedremo con la nuova normativa che andrà evidenziato che questo titolo ha intanto un tasso di rendimento effettivo vedete che ad esempio sui finanziamenti c'è il TAM il TAG quindi dei benchmark che è facile confrontare ci vorrebbe maggiore trasparenza su questo fatto e poi l'indicazione assolutamente dell'adeguatezza e competenza sicuramente è uno strumento a basso rischio è uno strumento che rende meno di alternative disponibili quindi è uno strumento che vi può consigliare solamente chi guadagna dal suo collocamento e vi faccio ancora presente che le commissioni di sottoscrizione quelle che si pagano a tempo zero sono diciamo la cosa che dovete evitare sempre ne ho parlato in un video precedente io avevo fatto anche qualche calcolo su Excel in base al quale sostanzialmente la presenza di questa commissione di sottoscrizione erode ulteriormente il rendimento lordo di altri 20 punti base e quindi lo porta tra l'altro queste commissioni non sono previste se acquistate i titoli di stato e quindi ci sarebbe un discorso lungo sulla concorrenza dello stato e l'impresa e qui il messaggio qual è? ci sono in giro delle obbligazioni o degli strumenti di emanazione bancaria che sono convenienti per le banche che le emettono convenienti per i soggetti che li collocano che sono possiamo dire in questo caso oggettivamente non convenienti per gli risparmiatori e gli risparmiatori dovrebbero evitarli lascio a voi le domande sui commenti ulteriori quindi non voglio parlare di comunicazione o di correttezza nei confronti dei clienti perché poi in realtà diciamo la banca fa i suoi interessi però dovrebbe dichiarare in qualche caso soprattutto quando vendi prodotti magari a un correntista o a un cliente che insomma sono interessi che vanno un po' nei confronti diciamo in contrasto con gli interessi dei risparmiatori e soprattutto la banca che alle famiglie che sono meno istruite che dedicano meno tempo corrisponde un rendimento inferiore a quello di titoli comparabili che mette sulle sue obbligazioni quindi tra i suoi debitori paga meno i debitori famiglie tra i suoi creditori paga meno i creditori famiglie perché evidentemente ai quali applica anche delle commissioni e ai quali magari fa anche diciamo una somma di consulenza questo era tutto per la pillola video della finanza in soldoni in semplicità riassumendo tenete presente quando un intermediario di credito vi vende obbligazioni che mette lui c'è un conflitto di interesse e dovete provare a fare dei conti trovate in giro oltre alla mia io ne ho viste tante c'è un'analisi indipendente che vi fanno vedere chiaramente perché questi prodotti non convengono quindi le potete leggere le trovate gratuitamente sui social su internet e fate i vostri interessi perché chiaramente se i risparmiatori fossero più avveduti e evitassero di comprare questi prodotti le banche avrebbero un minor gioco nel poterli vendere vi ricordo che la finanza in soldoni oltre che nelle pillole video è presente con una newsletter alla quale vi potete iscrivere dal link con un podcast che ha anche un servizio per i supporti a scrap che costa 3 euro al mese quindi meno di 70 centesimi a podcast e con frequenza settimanale e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivermi al mio canale youtube e lasciarmi qualche commento, qualche suggerimento o spunto nei commenti a presto